riccardo in arrivo per te due pacchi la spedizione sarebbe a carico del destinatario va bene da ragazzi faccio io non vi preoccupate non lo so devo andare a vedere qualche cosa fatto il giro largo fa c'è scritto riccardo rossi le hanno mandate a te attenzione a carico mamma mia metallo metallo allora vediamo un attimo cosa c'è qui dentro ma non ci posso credere ma guarda che meraviglia bravo 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 guardate al primo classificato del fantaccio bellissima bellissima alla una una è la coppa e l'altra la supercoppa attenzione c'è un'altra scatola eccola eccolo bernardo perché mi guardi no perché questo mi attrae un po di allora guardate queste proprio vedete il cucchiaio di legno l'ultimo classificato del fantacaccio sarei a team 2021 2022 team vision vi ricordiamo lo vogliamo dare già corrati no 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 scusa diamo diamo quella non la supercoppa supercoppa teniamola la puoi consegnare già quella del primo classificato al prof ma non sono neanche più primo è un segno di buon augurio non la tocco questo cos'è scusa questo invece la partecipazione come la partecipazione se uno partecipa a posto tu che sei va bene le metto al loro posto dai buona no 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 scaramantico e scaramante no sono realista sono reali o vi ricordo che oggi c'è anche il mercato è ludovico prima di proseguire è il momento di spiegare la fase 2 della lega team vision chi meglio di te chi meglio del vincitore del sicuro vincitore del campionato allora allora voi vi sarete chiesti almeno una volta durante questo programma per cosa stiamo giocando tra virgolette per cosa servono queste 21 giornate di campionata l'italia però ce lo so anch'essi con parole diverse che che cazzo stiamo giocando cinque giornate di battle royale in cui giochiamo sempre tutti contro tutti quindi ogni giornata ci sono 21 punti è il primo in classifica del 10 campionata l'italiana quello che stiamo giocando adesso parte con 50 punti il secondo 35 quindi hanno un vantaggio ma quando inizia la battle royale fra tre giorni a tre giorni poi ci saranno i play off alla finestra che si stabiliranno sulla base delle posizioni che come si giocheranno i play off gli accoppiamenti come sono primo contro quarto li vediamo in grafica vediamo vediamo cartello 2 spagnoncelli eccoci qua ad oggi quindi primo e secondo sarebbero esentati direttamente in semifinale terzo e sesto a terzo e quinto già i play off chiaramente manca un posto che è il colpo di goda gli ultimi tre cioè non i primi cinque che mi sembrava parisiano si giocheranno l'ultimo posto per i play off per un quarto di finale con questo momento come hai capito non ho capito nulla però sta scherzando sta scherzando andiamo oltre ha capito fanta allenatori vi chiedo di non dare più il mio indirizzo per le vostre consegne ludovica c'è una consegna per te ma che è oggi oggi ma c'è mille sorpresi ma c'è babbo natale occhio scalino vediamo bella che bella che splendida maglia è per te ma è meraviglioso ma guarda per il fratellino la sorellina è meraviglioso visto questo momento difficile ma è stupendo beh grazie ludovica va bene andiamo avanti è arrivato un altro pacco per te mi dicono non so che non ci crederebbe è già da impegnativa fermi fermi c'è un altro pacco che cos'è altre magliette altre magliette questa puntata dovrei fare su giù tutte le volte bella brazilian tra posso vai la dinamo corrati bella questa maglietta è l'autocara ma ti ricordi l'autocara malcolm questa è molto udinese molto udinese la ricordi ragazzi chi può la indosso come no part dance la grandezza la misura arriva la tovaglia questa è una tenda questa è una tenda è una tenda no è una tenda l'hai detto tu è una tenda no è brutta però è bella ragazzi l'eleganza posso dire che ci sono rimasto un po' male pensavo fosse un regalo singolo per me e invece con che l'orienti creatura più bella assi al momento sarà la tua delle righe inguardabili ci sono altre magliette ancora mancavano 3 io ho come la sensazione che siano quella di di biaggio la mia e quella di rossi ho un irrefrenabile voglia di cantare l'inno dello zazzuolo in questo momento zazzazza bella zazzuolo è bellissima è stupenda grazie ti hanno dato la 10 ma più bella arrivare di male che quella di malcolm questa è una contrata bellissima questa è la magliettina di una contrata è il grillo o no questo è il buavista no questa è classica questa è zazzuolo questa è classica zazzazzuolo ma comunque dovrebbero fare gli inni per tutte le squadre scusate non è corretto che ce l'hanno solo due tre. Questa rispetta. Hanno fatto fuori pure delle magliette, Ivan. Ivan, hanno fatto fuori pure delle magliette. Non c'è una maglietta. Non c'è nient'altro? No. Ragazzi, non c'è la mia maglia. Ti presto la mia, Gigi, dai. Io veramente, io rimango male. Fantallenatori, al mio segnale, scatenate i portafogli. È tempo di mercato. Bene, bene, il divertimento non è mancato e lo mancherà nemmeno stavolta. Abbiamo svincolato con la nostra chat alcuni giocatori, quelli che non servono più, pagani praticamente metà squadra. Vediamo con l'aiuto della grafica la situazione soldi e immagino anche giocatori. Ecco qua, questi sono i soldi. La Pardense, quanti ne ha? La Pardense ne ha 70. Bene. La Pardense comunque è società solida, sana, che non si indebita. Da bilancio immacolato. Prof Boys, con pochi soldi, vedremo se il professore riuscirà a piazzare la zampata anche in questa situazione. Alvia, le offerte in busta chiusa. Coulibaly. Ah, Coulibaly? Raccontaci perché l'hai lasciato. L'ho lasciato perché pensavo tanto me lo riprenda uno e invece ho fatto un errore. Non l'avrò preso sicuramente io, però. Vediamo, tre offerte. Zazzuolo, Prof Boys e Atralico Malcomune. Cinque, Zazzuolo. Nove, Prof Boys e venti, Atralico Malcomune. Posso dire che mi veramente sono proprio triste perché ho fatto sta cosa. Volevo fare una mera speculazione economica. Molto bene, eh. Se ti do 20 milioni, me lo ridai? No. Andiamo, c'è un altro difensore. Maitran Niles, Pardense e Dinamo Corradi. Vediamo. Pardense cinque, Dinamo Corradi, sette. Manco Maitran Niles ho perso. La situazione è drammatica. Andiamo a vedere altri. Prof Boys, Atralico Malcomune. Uno, otto. Manuel Lazzari è un giocatore dell'Atletico Malcomune. Per otto fanta milioni. Poi, Florenzi, Monte dei Cocci, Atralico Malcomune. Vediamo. Florenzi, Atralico Malcomune, otto, otto. Al momento non ha segnato, ma ci sarà un'asta a due. Interessantissimo. Rogerio. Uno, Special One. Non hai visto che mi ha portato bene quelli con la R? Allora, scusate un attimo, che in vetta la classifica, sai, fa un po' freddo in cima, eh. No, dai, scherzo. Speriamo di rimanere così che poi me la tiro. Danilo, due. Danilo, ottimo. Rodriguez, io. Rodriguez, un milione, un fanta milione, assegnato. Andiamo avanti. Tiatti, uno, Zazzuolo. Ma io con chi gioco? Luis Felipe, pure lui vuole fare l'offerta. Undici Rossi preso a uno. Centro capisti. Vediamo, vediamo. Sergio Oliveira. Attenzione. Lo volevo sì, perché ha già fatto tutta la visita perfetta lì a Villa Stewart e quindi è dei nostri e quindi noi siamo contenti di mettere un altro giallo rosso dentro la Undici Rossi. Eccola. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sensi, Montalei Cocci e Undici Rossi. Montalei Cocci offre 21. 21 milioni per Sensi perché mi serviva un centrocampista per completare la rosa, un centrocampista offensivo che potesse fare qualcosa nell'area di rigore avversaria. Secondo me Sensi può far bene a Genova con Gianpaolo. McKennie. Pure su McKennie volevo fare un'offerta. Perché non l'ho fatta? Adrianico-Malcomune. 20 McKennie. 20 McKennie. Lukic. Bravo, bravo Ivan. L'ottimo campionato di Lukic. Lukic lo volevo assolutamente meno. Ho preso Lukic perché nel Toro è titolare fisso e il Toro sta andando molto bene, per cui credo che sia un giocatore che magari non sarà da 7, però un 6-6 e mezzo lo prende sempre e comunque mi garantisce la presenza. Iconè. Dinamo-Corrali. Atradico-Malcomune. 20 Atradico-Malcomune. 15 Dinamo-Corrali. Tutti tu. Tutti tu. L'acquisto che mi ha soddisfatto di più è stato un giocatore della Fiorentina che si chiama Iconè che spero che possa far bene. Zurkowski. Zurkowski. Prof Boys 11 rossi. 5 a 1. Questo è un buon giocatore, ragazzi. Questo è un buon giocatore. Grande prospetto. Grande prospetto, Zurkowski. Tchekowski. Gran colpo di Zurkowski per Rossi. È un bel giocatore perché poi l'Empoli fa tanti gol, è salva, quindi probabilmente di qui alla fine del campionato saranno punteggi un po' tennistici e quindi buono per il fantacalcio. Un su per Riccardo Rossi. Stamberg. Gudelo. Atralico Malcomune. 12. Vabbè, ma è giusto per buttarli dalla finestra. Verdi. Centrocampista. Atralico Malcomune. 15. Ma non so finire questi soldi. Andiamo agli attaccanti. Stiamo arricciati, Pier. No, non ci ho capito niente. Verdi. Zazzuolo. Atralico Malcomune. 5. A 18. Gabbiadini. Prof Boys. 11. Rosso. Atralico Malcomune. Vediamo. 20. 1. 1. 26. 11. Rosso. Grande consiglio di Manu e di Tedesco, mi dispiace. Andiamo avanti. Piontek. Special One. Montelicocci. 11. Rosso. Chi lo prende? Montelicocci. 26. Special One. 35. Special One. Piontek. Ho solo lasciato Corea per avere più crediti e prendere poi Piontek che dovrebbe sostituire Vlaovic dalla Fiorentina. Quindi vedremo. Vlaovic e Piontek. È il passato e il presente. Alexis Sanchez. Dinamo Corradi 11. Rossi. 1. 2. 2-1. Vincia Dinamo Corradi. È buono questo. Buono questo. Barrow. 5. Zazzuolo. Ho preso Barrow. Piccoli. 12. 12 per piccoli. Lozano. 5. C'era pure Lozano. Zazzuolo. 3. Vedi, Gonzales che costava un sacco di soldi. Se pensi che ho mollato con Corrin e c'è Nico Gonzales, è un miglioramento netto. Cioè, è uno che comunque gioca. Va bene, va bene, ragazzi. Allora, si è chiusa questa splendida asta. Adesso però c'è da risolvere del tema Florenzi con un'asta a due. Si parte da otto. Qualcuno offre di più? Pagani, nove? 12. 13. 16. 16 e 1. 16 e 2. 16 e 3. Ha vinto lui. Io vorrei Parisi dell'Empoli. Eccolo! Hai Parisi dell'Empoli. Parisi, Par... Parisi va bene una messa, eh. Odriozola. Eccolo! Lo prendo a due. Odriozola a uno, due, tre. Su. De Sciglio, uno. Tuo. Tuo. Sei l'unico che c'ha il buco. De Sciglio. De Sciglio è suo. Soiano dice ai che vanno al dottor... Prof. Vai, c'è trocappisti. Io vorrei prendere Mandragora. Lo vuole qualcuno? Chi? Mandragora. Quindi offro uno. Il mio capitano, uno e due. Uno e tre. Grazie. Mandragora l'ho acquistato perché è un giocatore che, secondo me, va a completare la mediana del toro e può essere anche un giocatore che ha l'assist nelle sue corde perché è un giocatore che batte le punizioni. Che facciamo? Qualcuno ha a fare il minacuccio? Uno. Te lo lascio. C'è Sabonara qua. Due. Tre. Dieci. Ok, prendi da dieci. Prendo il dallai. Finiti centrocampisti? Sì. Le punte. Vai con le punte. Batto io, posso? Vai, batto. Bregalo. Due. Due e uno. Ho un po' pure chiesto prima, che famo? Due e due. Cinque. Cinque e uno. Sei. Sei e uno. Dieci. Dieci e uno. Ragazzi, vi ho lasciato Correa. Uno. Uno per me per Correa. Prendere un attaccante più scarso, tra virgolette, fantacalcisticamente parlando, era inutile. Correa, se è titolare, è un giocatore che mi mette il dubbio di... Forse lo metto. Prendo Pavoletti a uno. Uno. Uno e uno. Uno e due. Uno e tre. Mi sono veramente molto divertito nel vedere tutti gli altri giocatori prendere... Giocatori che avrei voluto prendere io. E quindi affronto con, diciamo, rassegnazione il futuro della stagione, certo, della ormai imminente sconfitta della partenza. Nelle ultime ore di mercato arrivano gli ultimissimi colpi. La Pardense si aggiudica le reti di Vlaovic alla Fiorentina. Cabral al posto di Lasagna. Zazzaroni punta sul nuovo motore a centrocampo della Juventus. Zaccaria, Tertameze. Corradi si lascia trascinare dal vento dell'est il talento ucraino della Sampdoria. Supriaga per Pinamonti. La Special One capolista spara le sue cartucce con il pistolero Piontek al posto del Tuku Correa. La Prof Boys si rinforza con un giocatore dalla Dinamo Corradi. Chi l'avrebbe mai detto? Svanberg al posto di Marin. Per la US Zazzuolo, centrocampo nel segno della mole. Lukic dal Toro e il già citato Zaccaria, neoacquisto della Juventus. Rivoluzione in casa atletico malcomune. Ben dieci calciatori salutano la compagnia. Compito di neoacquisti. Far sterzare la stagione. Ancora non chiariti i motivi dello svincolo di Coulibaly. Il presidente Pardo deve rinunciare anche a Bentancur. Partito in direzione Tottenham. Chi riempirà il buco? Gigi Di Biagio saluta tre dei suoi fedelissimi. Calafiori, Burabia e Cutrone. Dentro Florenzi, Sensi e Brecalo. Cartelli nuovi ne abbiamo? Riccardo Giallorossi. Anche Sergio Oliveira entra a far parte della squadra. Vero colpo? Soffiare Zurkowski alla Prof Boys. Non resta che sostituire il partente Kuluseski. La Dinamo Corradi restaura il centrocampo. Via il trio Svamberg, Damsgaard, Kovalenko per Mandragora, Saponara e Ektar. Grazie a tutti. Aggiornamenti sull'app. Ragazzi io non ho la maglietta, la voglio. La prossima volta ci. Però avrebbe diritto la maglietta. Io non vado via. Ma c'era lui la maglietta. Non scherzo, non scherzo. La più bella. La maglia dell'Oms. Ciao ragazzi, alla prossima. E viva. E viva. E viva.